Let's get it guys, se vuoi acquistare skin e vbucks nel mentre supportare il power of the nazionale ricordatevi che potete scrivere fanatic trattino in mezzo power scritto ovviamente col 3 al posto dell'e in supporta un creatore, lo trovate in basso a destra nell'item shop di fortnite ogni tuo futuro acquisto su fortnite supporterà anche me e vi farò degli splendidi ragazzi Let's get it boys Pro vuol dire giocatore professionista, vuol dire professionista cioè essere pagato per giocare Tu vuoi dire può giocare bene a un torneo? Certo che sì Nei tornei non è premiata l'abilità, la mira e la velocità diciamo con cui uno fa le cose è premiata l'intelligenza, il prevedere e approfittarsi delle situazioni Pubblica e tornei sono due giochi non differenti di più, è come un altro gioco totalmente totalmente un altro gioco Ho sbagliato tutto Pubblica e tornei sono due giochi non differenti di più, è come un altro gioco E' come un altro gioco che è una buona Come un altro gioco che è piaciuto Che ci sono dei gioco, un altro gioco che è più E' come un altro gioco che è più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, che gioco di merda è il competitive. Premi all'astuzia, ragazzi. Grazie a tutti. Oh, lo possiamo pregonare un semplice gioco di scacchi? Allora, l'abilità nello sparare, nel mirare avvengono nell'early game, cioè all'inizio del gioco. Il resto, diciamo, del gioco è molto più strategico, di movimento e anche un po' di fortuna perché quella fa tanto. Quella fa molto, ragazzi. Anche in hand, se sei in alto come di più, può servire la mira. A broma, che mira, che mira te può servire? Cioè, non mi pare un gioco così difficile dove sparare, eh? Che è che vuoi avere c'è in tornei la skill a mirare le persone quando volano con il paracadute, cioè... Esattamente. Sì, io sono bravissimo in pubblica, non vuol dire che sono bravissimo a giocare i tornei. È come... È come la gente che vede quelli fare le build battle assurde in... In coso? In playground, no? In parco giochi. Allora dice, no, vabbè. Allora quel giocatore è fortissimo. Guarda che cosa fa. Ah, è fortissimo quel giocatore. Cazzo ti ero impallato, bro. Allora dice, no, vabbè. 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 Grazie a tutti Ok, campioncino Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie mille per l'host E dai Oh, Paolone Grazie mille per l'host, Paolito mio Le schiere, Paolonis Siete qual è la peggiore cosa che può capitare in questo momento? Una snippata a tradimento Beh, l'ha presa lui e l'ha snippata a tradimento Mazza però che lock Senza il mirino al centro dello schermo L'ho lockato precisamente in testa Sono tutti morti della safe Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Oh 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 Grazie a tutti 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 E vabbè E vabbè Niente Mazza ragazzi Eriamo 5 live Sono tutti morti dalla storm Com'è possibile che sono tutti morti dalla storm? Incredibile questa cosa Cioè Ci sono talmente tanti oggetti di movimento E la gente muore ancora dalla tempesta Ecc Dalla ecc Ciao